In un importante sviluppo per l'assistenza sanitaria nella provincia di Teramo, le centrali operative territoriali COT sono ufficialmente entrate in funzione. Queste strutture messe in campo dalla ASR tramite gli operatori il portale hanno il compito di mettere in rete i professionisti sanitari gestendo il paziente nei momenti critici del percorso sanitario, fra un luogo di cura e l'altro. Le COT sono la prima step di attuazione del PNRR, come l'ASL prenderà in carico il paziente l'abbiamo già anticipato con le AGICOT, noi siamo stati i fautori di questo progetto ministeriale per la presa in carico del paziente. Quindi le COT non sono altro che una continuità di quello che noi già stiamo facendo con AGICOT, però la COT è la struttura prevista proprio dal PNRR che è appunto uno strumento per venire in conto alle esigenze di cura del paziente e di assistenza ai familiari nel percorso di cura che il paziente stesso dovrà fare. Quindi sia nella parte dell'ospedale, dall'ospedale al territorio, dal territorio all'ospedale e nell'ambito del territorio. Cioè in pratica prenderlo in carico, ad esempio viene dimesso l'ospedale, ci sta la COT che si occuperà di come verrà allocato, oppure dovrà messo i nati, deve andare ad un RSA, deve avere qualche altro tipo di assistenza e la COT che in rete coordinerà tutto questo processo. L'attività delle COT che in provincia sono Tre, Teramo, Roseto e Nereto si svolge all'interno della rete dei servizi assistenziali territoriali ospedalieri e non prevede l'accesso diretto dell'utenza. È rivolta a tutti gli attori del sistema sanitario e sociosanitario che possono richiedere l'intervento e integrarne i servizi come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali. La COT ha un programma su cui vengono caricate tutte le disponibilità, per cui l'operatore telefona la COT, la COT nel giro di poco tempo gli dà la risposta, guarda è disponibile questa struttura. Quindi da una parte l'operatore sanitario o sociale che sta più a contatto con il paziente è sgravato da alcune incombenze, chiamiamole d'ufficio burocratiche, ecco perché nelle COT il personale è rappresentato soprattutto dagli infermieri che abbiamo formato appositamente a questo ruolo.